Salve a tutti, benvenuti a una nuova colazione con tostato di formaggio e mate. Previamente ho già mangiato i semisecchi. Grazie a tutti. Un'altra cosa, a tutti coloro che si iscriveranno al mio canale dico che io automaticamente mi iscriverò a loro. A tutti quelli che voteranno mi piace ai miei video, io gli voterò mi piace ai loro video. E a tutti quelli che metteranno il mio canale nella lista dei favoriti, io metterò il loro canale nella lista dei favoriti. Chiaro? Immo, mangiamoci pure quest'altro. E' una delizia. Immo... Grazie. Grazie. Grazie.